Vendono capi d'abbigliamento, accessori, oggetti elettronici oppure massaggi e tatuaggi. Sono i venditori abusivi che ogni estate fanno tappa nelle spiagge di tutta Italia per cercare di vendere i loro prodotti, molti dei quali contraffatti, e per arrivare a fine giornata con qualche decina di euro in tasca. E nonostante i controlli anti-accattonaggio messi in campo dai comuni, come la vicina Pesaro e dalle forze dell'ordine, si tratta di un fenomeno difficile da contrastare. Noi oggi abbiamo sentito il parere di Bagnanti ed alcuni gestori degli stabilimenti balneari a Ponte Sasso di Fano. In queste spiagge a Ponte Sasso li vedete spesso? Sì, sì, spesso, spesso, tutti i giorni. Sono insistenti secondo lei o sono comunque gentili? Possono anche, sì, si camminano, sono gentili, non danno fastidio insomma. Per lei se ci dovessero essere non sarebbe un problema? Non danno fastidio, no. Vanno, fanno qualcosa, lo vuoi sì o no, se ne vanno. Grazie, se ne vanno. Qual è la situazione? Sembra migliorata, secondo il mio punto di vista. Anno scorso ogni tre ombrelloni c'era un venditore. Quest'anno, anche se hai dato un'occhiata, sembra meglio, però c'è sempre chi si lamenta dell'abusivo, chi sta lì a chiedere l'elmosina, c'è sempre qualcuno. C'è qualcuno che sostiene il fatto che questi venditori si siano trasferiti da Pesaro a Ponte Sasso, dunque non è vero? Questo non lo posso dire io. Quaggiù, da quel che vedo io personalmente, sembra migliorata la situazione dall'anno scorso, che poi lassù non ci siano più per niente, beati loro, qui qualcuno ce n'è, ma non è come gli altri anni sicuramente. Visto che insomma frequenta questa pioggia da 30 anni, ha visto un aumento nel corso del tempo di venditori abusivi? Quest'anno però è una diminuzione, quest'anno di meno degli altri anni. Comunque ci sono sempre stati? Sempre, sempre. Anche vent'anni fa? Anche vent'anni fa. Vi creano problemi, dei fastidio? Nessun tipo di problema. Secondo lei questi venditori sono aumentati o diminuiti? Secondo me sono sempre il stesso numero, è sempre uguale, sì. I bandanti che frequentano la vostra spiaggia si lamentano? Ma diciamo in generale possiamo dire di no, perché non è che ci sono molti, diciamo. Nessuna lamentela ne è pervenuta? Oddio, quando passano con quelle carrette, con i panni, allora quello è un altro discorso. Ne vede diversi, ne vede spesso? Ma rispetto agli anni scorsi quest'anno ne vedo meno. Sono sempre monotoni, seccanti eccetera eccetera, però rispetto agli altri anni molti di meno. Comunque, come dicevo, il problema di sta gente qui bisogna andarla a prendere a monte. Da chi fornisce i materiali, penso che ci sia dietro anche un racket, un qualcosa. E poi sta gente qui deve mangiare. O delinque o va a fare il lavoro che fanno. Cioè, camminare sulle spiagge e cercare di vendere quel poco che vadano poi a campare. Cioè, camminare sulle spiagge e cercare di vendere quel po' 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 di vendere. Grazie.